Siamo qui con Molteni Marco della Pobinzago, insomma una partita pazza con ben 5 gol nell'ultimo minuto insomma. Una partita durissima, loro molto bravi, sul loro campo sanno giocare molto bene, peccato per com'è andata, l'ultimo secondo ci ha fatto 3-3, però poteva andarci anche peggio. Un primo tempo in cui vi siete chiusi, siete arroccati dietro per poi ripartire, però non avete trovato la via del gol nonostante comunque delle buone occasioni create. Ora, da che cosa ripartire per la prossima partita per trovare magari quel cinismo, quella continuità che vi serve? Sicuramente la prestazione di oggi ci porterà in alto perché comunque è una bella prestazione, l'ho detto peccato per il risultato e le prossime partite cercheremo di chiuderla subito e di non prendere gol su errori nostri, soprattutto su errori nostri. Ieri la Colbe ha perso, quindi la sconfitta della capolista, quanto ci credete? Anche se oggi è arrivato solo un pari. Un sacco, io ci credo un sacco. Grazie, è stato gentilissimo.